a proposito del super bonus io dico che nella scorsa legge di bilancio io avevo presentato anche un emendamento per rendere progressivo questo 110 per cento agganciandolo alla capacità reddituale ma questa è una mia sensibilità a mio avviso ogni volta che ci sono in ballo delle risorse pubbliche di tutti devono essere messi a disposizione progressivamente da chi ha meno verso chi ha di più quindi io avrei modulato anche per fasce di reddito certo la ristrutturazione anziché il 65 per cento per chi non ha nulla le case popolari alle elevarlo con il 65 per cento perché molti dovrebbero prima ristrutturare poi efficientare soltanto per questo questa è la mia posizione ciò però non toglie che è stato un gravissimo atto di irresponsabilità di draghi e del suo governo compresi tutti i ministri andare a modificare per 12 volte una misura mettendo in ginocchio migliaia di imprese allora non ha avuto una visione draghi né ha voluto forzare magari chiedendo delle modifiche non ha fatto tutto questo e si è intrecciato in questa serie di piccole modifiche che sostanzialmente stanno mettendo a rischio tra i 30 e 40 mila imprese con i relativi addetti questa è una questione di fiducia delle imprese nei confronti dello stato al di là del merito della misura poi ne possiamo parlare però se tu fai un patto con quelle imprese con quei cittadini che si sono affidati tu non puoi a un certo punto chiudere i rubinetti e lasciarle in sospeso la questione delle truffe non riguardano solo il superbonus ci sono i bonus facciate allora eliminiamo tutti i bonus eliminiamo tutti i trasferimenti manifestatamente io non sono d'accordo probabilmente si sarebbe dovuto agire in maniera diversa sul fronte della giustizia e anziché fare una riforma come la cartabia che la commissione europea ha attenzionato proprio per le truffe per la corruzione fare qualcosa di più puntuale anziché far sfumare i processi andare invece con me mi risponde proprio sinteticamente perché lei pure come dire è stata una delle persone che più si è spesa per il reddito cittadinanza all'epoca no cosa però bisognerebbe fare allora io vorrei chiarire un aspetto sì il reddito cittadinanza mi avviso non è in pericolo perché perché tutti chiedono di cambiarlo ma di lasciarlo compresa la meloni a quelle persone che hanno bisogno bene i due terzi sono anziani disabili e minorenni quindi a quelli viene lasciato qual è il problema il problema perché non staccarlo completamente dalle politiche attive per me va bene ma perché non l'hanno staccato hanno fatto un governo di unità nazionale sono tutti d'accordo perché non l'hanno staccato perché eravate contrari ed un altro aspetto scusi ma no l'ha detto anche conte ma scusate l'ho detto anche conte che è favorevole a rafforzarlo a modificarlo però c'è un aspetto ci sono delle risorse messe per le regioni per il potenziamento dell'ufficio per i centri dell'impiego che non sono state utilizzate allora i partiti che vogliono andare in questa direzione devono spiegare dei centri dell'impiego cosa se ne cosa ce ne facciamo perché anche quelli sono soldi pubblici destinati a stipendi bollette cancelleria affitto dei locali per non avere nessun risultato un'altra piccolissima cosa qui tutti l'hanno votato non lo sanno e già legge basta soltanto fare il decreto attuativo già l'impresa privata si comunicare il rifiuto e a quel punto si perde il reddito quindi non diciamo cose che sono state già fatte cangini ma guardiamo avanti vediamo se dei cangini cioè azioni